Musica Ciao gentaglia bentornati su Breaking Italy, buon martedì a questo punto siamo già in ritardo per parlare delle tre che è iniziato Principalmente ieri è stato il grande evento di Bethesda del quale tutti hanno parlato per tre ragioni La prima il nuovo Fallout che sembra veramente veramente bello Ho notato come tutte le persone che si lamentavano della grafica si sono praticamente rimangiate ogni cosa Premesso che comunque ho visto la grafica più bella ovviamente ma non è quello l'importante Fallout 4, ambientazione bellissima Sistema di combattimento ibrido, un po' FPS, un po' quella roba lì nella quale fermi il tempo e decidi dove sparare e fare i critici Ma soprattutto l'esperienza di gioco completamente libera Il che significa uscire dal vault dal quale uscite, il vault 1-1-1 E avere a vostra disposizione un gigantesco mondo da esplorare Fare cose, vedere cose, uccidere cose Fantastica, non si discute, hanno anche fatto uscire un'applicazione per telefono Nella quale gestisci un vault Ci ho già giocato almeno un'ora Non so quanto possa essere longeva però per i fan della serie è davvero divertente E c'è anche Dishonored 2, la nuova versione di un altro gioco molto figo Che aspetto da un sacco di tempo, spero sia superiore al precedente Specialmente in termini di lunghezza dell'esperienza Perché l'altro durava zero ore praticamente Lo iniziavi e avevi finito E spero migliorino un po' la storia C'erano le basi, l'ambientazione è fantastica Se non aveste giocato Dishonored vi consiglio di giocarlo perché è bello È molto veloce, è molto divertente I poteri che avete a disposizione si possono usare in milioni di modi Quindi sono contentissimo, peraltro invece di utilizzare il vecchio personaggio Corvo si utilizza la bambina del precedente gioco Che è diventata più grande E che è legata alla stessa misteriosa divinità della quale si parla nel precedente episodio Fighissimo, fighissimo E poi c'è anche Doom E... Ah, lo so che adesso non siamo più amici Però Doom, sì, bello Bello, cioè Doom Però sta andando in una direzione che non mi piace I gameplay che hanno presentato sono molto veloci Molto più di quanto mi aspettassi Più che Doom mi ricorda Quake Specialmente nel multiplayer Detto ciò lancerò con vigore i miei soldi in direzione di Bethesda Più e più volte Questo il prossimo anno, probabilmente Parlando peraltro di tecnologia Questo febbraio, vi ricorderete Avevamo parlato della missione Rosetta E di come il Lenderfile si era staccato dalla mamma A farsi un bel giro su Marta E raccogliere campioni Spedire i dati Alla base dell'agenzia spaziale europea Che sta gestendo questa roba qui E ovviamente dopo un po' Si erano scaricate le batterie Il Lender era andato in ibernazione E si è svegliato domenica sera Quando gli scienziati hanno avvisato il mondo Di aver ricominciato a ricevere pacchetti di informazioni Direttamente dal Lender E ce ne sono ancora tantissimi Apparentemente ancora salvati Nella memoria del Lender Un sacco di robe interessanti Oppure no Perché evidentemente Seguendo quello che è stato una sorta di trend di Facebook Di un paio di giorni Un bruttissimo, bruttissimo trend E ai minatori non ci pensa nessuno E alle persone che lavorano le pompe di benzina E le persone che lavorano le pompe di benzina E si sporcano e poi puzzano di benzina E tornano a casa e lavano la roba La stendono Però sta piovendo Non si asciuga C'è molto umido Continua a puzzare tutto di bene Nessuno pensa a loro E peraltro parlando di Italia La popolazione italiana non cresce Anzi si sta riducendo E' una roba che sappiamo già da un po' di tempo E sono arrivati dei nuovi dati a supporto Di quello che è palesemente un problema Sono ovviamente dati Istat Che fotografano annualmente Il movimento naturale della popolazione Il che significa Quante persone ci hanno lasciato Quante persone sono arrivate Nel 2014 si è toccato il picco più basso Che equivale alla stessa natalità Slash mortalità Che era presente Nell'Italia del 1917-1918 Periodo durante il quale però C'era la guerra mondiale Quindi magari aveva più senso E invece anche adesso Continuano a nascere pochissime persone Tanto da essere arrivati a un saldo negativo Di quasi 100.000 unità Quindi 100.000 persone In meno in Italia E questo dovuto a un sacco di fattori Principalmente a due fattori Il primo Gli italiani sono un popolo di anziani E pieno di anziani L'età media è di 44 anni Che è molto alta Può sembrare poco Però è l'età media Dovete considerare che ci sono i novantenni In questa media E in seconda battuta I giovani fanno pochi figli O non ne fanno affatto Rispetto al periodo precedente Il 2013 Ne sono nati 12.000 in meno Di bambini E questi bambini Alle volte Non si contano in Italia Perché non nascono in Italia Sono sempre di più infatti Gli italiani che continuano ad andare all'estero Anno dopo anno Cercando di scappare Dalla mancanza di lavoro Sperano in un futuro migliore E quindi diventano migranti Parliamo di quasi 90.000 italiani Che soltanto lo scorso anno Hanno deciso di andarsene Normalmente in altre parti d'Europa Qualche volta negli Stati Uniti Parlando di esteri Invece Per la seconda volta nella storia Un soldato nordcoreano È riuscito ad arrivare in Sud Corea Percorrendo la zona demilitarizzata Che appunto divide le due Coree Perché tra Corea del Nord e Corea del Sud C'è una sorta di spazio cuscinetto Che è pieno di mine Torrete di avvistamento Filo spinato Un sacco di roba In teoria sono per impedire Un'invasione Di uno dei due paesi Nel territorio altrui Ma in realtà servono anche per evitare Che persone dal Nord Corea Scappino nel Sud Corea Quindi di nuovo persone Che si muovono principalmente In questo caso per scappare Dalla povertà Dalla mancanza di cibo Dalla mancanza di libertà Dalla mancanza di tutto I soldati che vengono acchiappati In fuga Sia dalle truppe nordcoreane Ancora fedeli Che dai soldati cinesi Che hanno un accordo con il Nord Corea Sono molto amici Questi due paesi Per chi se lo fosse dimenticato Vengono rimandati in patria E' interessante invece Che dalla parte del Sud Corea Ci sono anche dei telefoni Per cui se qualche soldato Riesce a scappare Supera le mine Supera ogni ostacolo Vince alla vita Può acchiappare un telefono E dire aiuto Venitemi a prendere E' la seconda volta che succede Cioè succede continuamente Però normalmente Queste persone Passano per la Cina Cercando di non farsi beccare Dall'esercito cinese E poi arrivano in Sud Corea Invece per la seconda volta Appunto un soldato E' riuscito a farsi Tutto il tragitto Fa sapere il New York Times Senza essere beccato Persone che si muovono Chi lo avrebbe mai detto E' una cosa che accade Apparentemente Ma hanno detto degli amici Io non lo sapevo Un'altra roba interessante Ritornando in Italia E che E sembra strano Questo per dire questa cosa Ma non è una battuta Lo stalker di Suor Cristina La famosa suora Diventata appunto nota Perché è molto brava a cantare Ed è andata in un noto Talent italiano E' stato arrestato Lo stalker di Suor Cristina Questo stalker Apparentemente Era un uomo belga Di 42 anni Che avrebbe inizialmente Contattato ripetutamente Via Facebook La cantante Ed era stato per questo Denunciato alla polizia di stato Probabilmente a causa Dei contenuti Di questi messaggi E non per il fatto Di averla contattata continuamente Anche se continuamente Può voler significare Molte cose Quindi immagino Significasse Continuamente Il convento a Milano Si è ripresentato Dopo aver fallito Una prima volta Perché come dice Alia If at first you don't succeed Thus you self often try it A meno che Non stai cercando Di stalkerare qualcuno In questo caso At first you don't succeed Statene a casa E guardati i video su YouTube Invece no L'uomo ha cercato Di farsi un selfie con la donna E' stato arrestato E adesso E' stato giudicato da un PM In un centro di identificazione Ed espulsione A Bari E' allontanato dall'Italia Quindi c'è questo Persone che stalkerano Suore cantanti In ultimo Gentaglia Ancora due cose Visto che si sta parlando Molto di migrazione Ho già detto qualcosa Spero non ve la siate dimenticata Guardando le foto Di Suor Cristina E pensando Alla canzone Di Suor Cristina Non ho seguito In realtà Quella trasmissione Ok Dico la verità Ho guardato qualche video Su YouTube Dalla Siria Qui Che come sapete Adesso è un territorio Nel quale l'Isis In perversa Le persone scappano E scappano Anche E principalmente In realtà In Turchia Ieri vi ho fatto vedere Alcuni dati Di Eurostat Senza dirvi che In totale L'anno scorso I richiedenti asilo In Europa Sono stati 625.000 Da tutto il mondo Praticamente Non solo Dalla Siria Sapete invece Queste persone Che vi sto mostrando In questo momento Mentre cercano Di saltare Le reti E il filo spinato Che sono posti Al confine Proprio per evitare Che la gente Entri In Turchia Sono già Entrate nel paese E vengono ospitate Proprio in quanto Profui Da quando è iniziato Il conflitto Nel 2011 1,8 Milioni di siriani Che dalla Siria Si sono spostati In Turchia Per scappare Per avere salva la vita Quindi non è Soltanto un problema europeo È anche Soprattutto un problema europeo Un problema complesso Che va risolto A fondo Finché c'è qualcosa Dal quale scappare La gente proverà a scappare È quello che probabilmente Farei anche io Faresti anche tu Farebbero i tuoi genitori per te E quindi Chiudiamo con queste immagini Mi sembra appropriato Ma questo gentaglio È tutto quello che avevo Da dirvi per oggi Grazie per aver guardato Grazie di tutti i mi piace Di tutti i commenti Di tutte le condivisioni E di tutto l'impegno Che mettete Nel promuovere questo video Di nuovo Io non faccio alcuna pubblicità A Breaking Italy Quindi quando Breaking Italy Cresce Quando trova nuovi iscritti Quando trova nuove persone È semplicemente Grazie a voi 0% Grazie a me 100% Grazie a voi E persone come Tango Il nostro alfiere per oggi Non so il suo vero nome Ma questa foto È fantastica È stata scattata Dal Johnson Space Center Della NASA A Houston Dove vive Tango apparentemente È una roba Fighissima Grazie mille amico mio Per questa foto Grazie a tutti voi Per aver guardato Sono Sciutto Heizio Questo è Breaking Italy Ci vediamo domani